Musica Bentornati, questione di marchio vi propone in questa edizione un viaggio intorno alla carne bovina marchigiana, inclusa nel marchio QM. Vediamo subito il servizio. Un'altra filiera entra nel marchio. Bovin Marche, prima in Europa per la tracciabilità elettronica delle carni, aderisce a QM. Ridotte dimensioni degli allevamenti rispetto dell'animale sono i criteri principali per garantire la qualità delle produzioni. La nostra è già una filiera consolidata da oltre 20 anni. QM in realtà è un'ulteriore certificazione e garanzia che con la regione Marche vogliamo dare al consumatore. Forse la novità più importante è il fatto che QM impone anche un'alimentazione non OGM, che fino ad essere stata diciamo più che altro una scelta volontaria da parte degli allevatori. Ma c'è anche nelle Marche chi riesce a tenere 110 mucche a due passi da Osimo come se fosse sul Monte San Vicino. È il caso di Francesca Colonnelli. Dal QM ci aspettiamo una maggiore valorizzazione del nostro marchio Bovin Marche di certificazione che già esisteva nella regione Marche. Quindi siamo molto contenti dell'aggiunta di questo marchio da parte della regione Marche, che è un'ulteriore garanzia per quello che è il consumatore. E ora diamo la linea come di consueto a Morena Bartolacci della nostra redazione per le news di questa settimana. Grazie Tiziana. La qualità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari italiani hanno da ora un importante alleato in più. Lo scorso 20 febbraio si è insediato infatti il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare. Ad annunciarlo il Ministro della Salute Livia Turco e quello delle politiche alimentari Paolo De Castro. Maggiori garanzie per i consumatori dunque e più possibilità per le imprese italiane agroalimentari di elevare i propri standard qualitativi. E alla pizza napoletana la possibilità di tenere alta la bandiera del Made in Italy. È giunta infatti al termine la parte più lunga dell'iter che porterà al riconoscimento ufficiale della pizza napoletana STG, specialità tradizionale garantita. Infine vi ricordiamo un appuntamento. Dal 14 al 16 marzo a finale Ligure in provincia di Savona avrà luogo il Salone dell'Agroalimentare Ligure, giunto alla sua quarta edizione. Bene, il nostro spazio termina qui. La linea può tornare a te Tiziana. Grazie a te Morena. Per la rubrica My Way, il professor Francesco Maria Cecchini, docente di storia contemporanea all'Università di Urbino, ci spiega il suo sentirsi marchigiano. Io per 50 anni ho insegno ad Urbino, quindi in collina, e vivo a Fano al mare. Per 50 anni ho vissuto come una coscienza che si muove a pendolo fra il mare e la collina di Urbino. Quando sono a Fano, al mare, sento forte la nostalgia della collina, quando sono in collina d'Urbino, sento forte la nostalgia del mare. Ma il significato profondo di questa pendolarità, per quel che mi riguarda, è data dal fatto che la collina Urbinate è Raffaello. La stessa cosa varrebbe per tutte le marche, anzi vale per tutte le marche, perché le marche sono costruite così, ma in particolare questa vallata fa a Urbino e in particolare Porto Recanati, Recanati. E perché in particolare? Perché Recanati è Leopardi. Quindi il marchigiano non lo sa, ma quando va lontano dalle marche, si trova a Roma, a Milano, a New York, non è il classico che ha la nostalgia del suo paese natale. Non è questo. È che dentro la sua anima, anima in senso naturalmente non religioso, dentro la sua psicologia, dentro la sua consapevolezza, c'è questa, chiamiamola, nostalgia della polarità collina e mare. Qualcuno potrebbe dirmi, i monti? I monti non li dico, perché i monti fanno da sipario alla collina e al mare. E come potevo allontanarmi da qui? E come possono i marchigiani allontanarsi da qui? Questa è una questione tipica di marchio. E prima di salutarci, la riflessione della settimana. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Lanciatevi. Abbiate il coraggio di lavare l'ancora e avventurarvi oltre il porto sicuro. Lasciatevi guidare dal vento ed esplorate nuovi lini. Grazie.